Il gruppo della Tribunale di Pescara ha in merito al procedimento numero 4666 del 2022, meglio noto come prima tranche della complessa inchiesta sugli appalti e l'astro di Pescara, manipolati secondo l'accusa dal noto imprenditore Vincenzo Marinelli, scomparso di recente, ha deciso di rinviare tutti a giudizio tranne coloro che hanno chiesto il patteggiamento. Per questi sentenza venerdì prossimo, oltre alla formalizzazione del non luogo a procedere per Marinelli, venuto a mancare lo scorso 24 ottobre. Una vicenda complessa che vede ben 30 tra persone fisiche e giuridiche, tra questi in 17 hanno fatto richiesta di patteggiamento, mentre in 13 dovranno affrontare il processo che inizierà il prossimo 17 dicembre a partire dalle ore 9. Tra gli indagati è anche la Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, in merito a 4 episodi distinti, due turbative d'asta, tra cui quella famosa sui 181 letti elettrici acquistati senza gara d'appalto per il Covid Hospital, ma sulla cui vicenda, come ha spiegato il suo legale, c'è lo scudo del decreto del Governo, che in piena pandemia autorizzava operazioni in somma urgenza, e due episodi di presunta corruzione, sui quali, secondo il PM Andrea Di Giovanni, Sospiri avrebbe assunto in diverse circostanze un ruolo di quasi totale asservimento agli interessi di Marinelli, imprenditore. Noi abbiamo discusso alla scorsa udienza e la discussione ha riguardato un giudizio, una valutazione di totale estranetà della condotta del Presidente Sospiri, a quanto a lui è stato, ha scritto, è stato contestato, sia per me che per l'Avvocato Miria la questione è stata questa, cioè teniamo conto che il Presidente Sospiri ha avuto dei rapporti con Marinelli, così come con tanti altri imprenditori, professionisti, normalissimi cittadini, perché quello è il ruolo che il politico deve svolgere nell'interesse della collettività. E non dimentichiamo che Vincenzo Marinelli nel 2019, cioè momento, lasso temporale al quale risalgono questi fatti, è stato insegnito con la più alta onoreficenza per un cittadino, data dalla città di Pescara, cioè il Cattedoro.